ci troviamo alla fine di un inverno 2022 molto secco in italia la situazione è allarmante nei fiumi del nord nel nord italia specialmente nel bacino del fiume po quella è la situazione di forte deficit idrico ma anche al centro e al sud e nelle isole maggiori i fiumi iniziano a soffrire in questo momento mi trovo lungo il fiume tevere al confine fra umbri e lazio e anche questo importante fiume italiano inizia a mostrare segni di sofferenza questo perché perché nelle scorse settimane e mesi ha piovuto poco in italia e ha nevicato anche poco sulle montagne sugli appennini qui vicino che riforniscono gli affluenti del tevere la neve è stata poca con alti e bassi continui in questo inverno la situazione cambierà nelle prossime ore ci sarà un ondata di maltempo di cui stiamo parlando su il meteo.net seguiteci anche sull'applicazione meteo red ma la grande domanda è se questo basterà per invertire un inverno che inizia a essere veramente preoccupante simile alla grande siccità del 2017 .